Il ponte San Bartolomeo Crollato Il comune di Castellammare del Golfo attende al riguardo notizie da parte dell'ANAS ma la situazione non sembra preoccupante e quanto si limita a dire oggi il sindaco di Castellammare Nicola Rizzo in riferimento alla necessità di monitorare più approfonditamente uno dei giunti, in particolare quello in corrispondenza delle estremità est di questo ponte che attraversa il fiume San Bartolomeo e che fa parte della strada statale 731. Una fondamentale arteria viaria perché collega infatti l'autostrada A29 con il centro urbano di Castellammare del Golfo. La finalità di questo servizio video non è certamente quella di diffondere infondato e inutile allarmismo, è una serie di immagini in cui possiamo vedere oltre al traffico veicolare lungo il ponte anche il territorio di Alcamo con la sua città e i monti sullo sfondo. Ma è certo che la situazione di cui si sta trattando è stata già oggetto di segnalazioni pubblicate anche su social network che sono state indirizzate, come conferma il sindaco Rizzo, anche all'amministrazione comunale castellammarese affinché si possa fare piena chiarezza circa l'effettivo grado di salute del ponte. Gli interrogativi a tal proposito non sono stati in effetti considerati bizzarri dallo stesso sindaco di Castellammare, tant'è che lui stesso afferma di attendere chiarimenti da parte dell'ANAS. Già negli anni passati, in particolare nel dicembre 2021, subito dopo il crollo dell'altro ponte San Bartolomeo, quello più basso e più a nord, cioè più vicino alla foce dell'omonimo fiume, ci si era domandato se fossero adeguate le condizioni manutentive dei piloni che sorreggono l'imponente ponte che stiamo osservando. Ma lo stesso sindaco Rizzo aveva tenuto a rassicurare in tal senso. Ad oggi, intanto, per quanto riguarda invece il progetto per la realizzazione del nuovo ponte, laddove tuttora si trova il collegamento viario provvisorio costruito dopo il crollo del vecchio ponte della strada statale 187 tra Alcamo Marina e Castellammare, Rizzo annuncia che si avranno aggiornamenti nei prossimi giorni. Dalla scorsa estate risultano stanziati oltre 11 milioni di euro al fine di attuare un progetto definitivo per il rifacimento dell'importante collegamento stradale, mentre sono in corso i lavori per realizzare una passerella che consentirà di raggiungere a piedi da un autocamping ed empressi di Castellammare il primo bivio per la spiaggia Playa, pertanto vigia attualmente per un tratto della ex strada statale 187 il divieto di transito per consentire lo svolgimento del cantiere. Si tratta infatti della messa in sicurezza di un tratto sulla ex statale 187 con nuovi guardrail, manutenzione e illuminazione, spiega il sindaco Rizzo, nel tratto che collega il centro urbano di Castellammare dalla zona del camping fino al primo bivio di accesso per la spiaggia, un'area molto percorsa a piedi da molti turisti ma per un tratto mancante anche di marciapiede. Grazie a tutti!